Sono i pannelli fotovoltaici installati nell'azienda agricola di Via Borghetto nel comune di Urbana, la probabile causa del vasto incendio scoppiato intorno a mezzogiorno. Le fiamme sono divampate nel deposito e si sono estese anche alla stalla adiacente. Nessuno è rimasto ferito, neppure gli animali che si trovavano nella stalla sono stati messi in salvo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con squadre da Este e da Legnago nel Veronese. Per precauzione è intervenuto anche il SUEM 118. Indagini sono in corso per stabilire con esattezza le cause del rogo.